Ciao a tutti amici e amiche, è un video velocissimo di svuota la spesa. Allora, sono andata a fare la spesa al Sigma e ho comprato queste patatine che ho già cominciato a mangiare. Poi, poi ho preso dei tramezzini, questi li mangia mia figlia a colazione, io di solito preferisco il dolce, preferisco la roba dolce la mattina. Poi, poi ho preso, poi ho preso i soliti chicken burger che a me piacciono tantissimo, che hanno all'interno anche la salsina, la loro salsina per condirli. Guardate, non so neanche se riesco a parlare perché a parte lo stress, che sto passando un periodo molto stressante, ma poco fa mi ha chiamato una signora che voleva convincermi a comprare un depuratore d'acqua. Cioè, lei è stata selezionata, ma selezionata è il cavolo, cioè, selezionata, cioè, tra le sfigate a cui voi rompete le palle. Non so se ho fatto bene a aprire questo video e mi ce n'è voluto per liberarmi. Tra l'altro, dice, perché così non consumate la plastica, ma io bevo l'acqua del rubinetto, io bevo l'acqua del rubinetto, perché dove abito io sono appena orecciata. L'acqua è buona, l'acqua non è calcarea, è buonissima l'acqua del rubinetto. Beh, sì, però ugualmente può depurarla dal cloro così è migliore, anche per lavare in lavatrice o per i bambini piccoli. Io non ho bambini piccoli. Insomma, dunque, io non sapevo come liberarmene e che ho visto il prefisso 0522, io tutte le telefonate che arrivano con questo prefisso, quindi vuol dire un fisso di regioniglia, io rispondo, perché può essere l'ospedale, può essere, che ne so, un ufficio. Insomma, tutte le volte che vedo il prefisso della mia provincia, io rispondo. Quando vedo numeri sconosciuti, no, e blocco, senza neanche stare lì a vedere chi è e chi non è. Se no, non mi pubblica qualcosa. Non mi ci voleva, non mi ci voleva, vabbè, perché è un periodo veramente... Stamattina ho avuto il giorno libero dal lavoro, ho cercato di riposarmi, però siccome ho passato un periodo molto stressante, tant'è vero, guardate che non ho fatto video, ma non perché sto male, perché sto così, quindi io non voglio stare così, non è giusto essere così stanca e niente, quindi sta a me, non mi sono saputa tutelare, tutelare quest'anno, nel prossimo inverno. Invece saprò, ho già deciso quello che devo fare. Non mi dice, ma come, tu decidi mesi prima? Sì, decido mesi prima. Comunque, sono andata dal dentista che mi ha levato i punti dell'impianto dentale, tutto a posto, ora fra quattro mesi metterà la capsula, quindi da quel punto di vista tutto bene. Quest'inverno ho fatto tante cose utili, voglio dire, per la mia vita. E vabbè, quindi sono contenta di me stessa, ho ripreso a guidare, eccetera, 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 va bene. Allora, poi ho comprato, quindi uscita dal dentista a piedi, perché non sto usando la macchina, perché ho paura di non riuscire poi, uscendo dal garage, a guidare come si deve, perché c'è del ghiaccio, perché c'è del ghiaccio, ha nevicato ieri, oggi è il 23 di aprile, ha nevicato anche stamattina, una nevicata leggera stamattina, per cui c'è ancora la neve e anche del ghiaccio. E quindi sono andata poi a piedi, dopo essere stata dal dentista, quindi ho preso qualcosina. Ero andata veramente al discount, ma era chiuso perché il discount apre alle 3 e mezza, erano le 2 e mezza, quindi sono andata al sito, ma ho preso tutte queste cosine qui. Allora, i fumiri che mi sono finiti, questi sono praticamente i miei biscotti preferiti per fare la colazione la mattina, che dopo aver preso un'influenza notevole quest'inverno in dicembre, io la mattina mi faccio il tè con i biscotti e poi integro anche con una tazzina di caffè e la merenda. Vabbè, quindi la colazione deve essere dolce, deve essere dolce perché la vita è amara, quindi quando si sveglia la mattina ci vuole qualcosa di dolce, io ho una colazione salata proprio la mattina, non proprio, vabbè, comunque dipende dai gusti, quindi questi qui sono i miei biscotti preferiti. C'erano semplici, a volte ci sono anche al cioccolato, con i granelli di cioccolato, ma sono buoni tutti e due. Allora, questo è lo scontrino che mi hanno fatto anche lo sconto, perché ogni mille punti mi sembra sono 10 euro che scalano, quindi, quindi, sì, quindi il conto veniva, veniva, quindi ho speso, diciamo, 55 con mille punti che mi ha allevato, se no il conto sarebbe stato di 65. Ok, quindi tutte queste cosine che voi vedrete le ho pagate 55. 55. Allora, 55 euro. Poi ho preso il basilico per farci il pesto, i pinori già ce l'ho, e ho anche le linguine. Poi ho preso questo qui per la seconda volta, anche se ero a piedi non ho voluto rinunciare a questo qua. Questo succoso San Benedetto è buonissimo, è buonissimo, credetemi, l'ho già preso e appena l'ho rivisto. È un sapore paradisiaco, un sapore paradisiaco, poi è bello polposo, eh. Poi ho preso queste cocciole qui, o cocciole, cocciole, dicono cocciole, sul, come dicono nella pubblicità, gocciole o cocciole, non mi ricordo. Allora, queste cocciole qui, i finger, sono buone, l'ho già prese qualche altra volta così per uno sfizio. Poi un po' di affettati che mi ci volevano, ho preso affettati magri, ho speso, cioè ho speso, scusate. Non riesco neanche a parlare, perciò non sto facendo video, non sto facendo video esoterici né video di ASMR, perché là ci vuole più concentrazione. E qua invece, come viene, viene, e vi ringrazio di ascoltarmi ugualmente. Questo spec alto adice di due, di due, ehm... Ah no, stavo dicendo di due, di due brand diversi. No, no, poi ho deciso di, stavo prendendo due brand diversi. Poi ho visto che questo qui era in offerta, e allora ho preso due confezioni dello stesso brand. Ecco. Ok, brand, poi per brand si dice per l'abbignamento o per il cibo? Mamma mia, ho detto, sono fusa. Sono fusa. Spec alto adice GP su Tirol, ok, su Tirol, ecco qui. Avrei bisogno, davvero, di stare una settimana in casa, accarezzando la gatta e guardando Netflix. Avrei bisogno proprio di sette giorni così. Non è possibile averli, chissà che cosa succederà. Speriamo bene. Poi ho voluto, allora, siccome il ristorante messicano è a Reggio Emilia, e purtroppo a Reggio non ci sto andando, allora ho detto, mi arrangio io, e ho comprato queste qui, wheat wrap tortillas, perché ho detto, faccio io, faccio io. Ho detto, ora guarderò le istruzioni dietro, se vanno soltanto scaldate. E poi c'era anche, c'era da metterci dentro, anche con carne c'era scritto, però a me non è che la carne mi piaccia tantissimo. Questo qui invece dovrebbero essere verdure queste qui, quindi ci metterò dentro queste kidney beans naturali. Secondo me sono anche i fagioli neri, vedete, messicani, che sono buonissimi. E quindi proverò, ora poi leggerò le istruzioni per capire come fare, se vanno, quanto vanno riscaldati, come, dove, eccetera. Quindi stasera mi divertirò, insomma, a fare le tortillas. Poi, avrei dovuto prendere forse qualcosa di piccante, qualche salsina piccante da metterci dentro, perché è così per le tortillas. Però, sono stata tratta da questa, ora ve la faccio vedere. E ve l'ho messa, ah, eccola, è da questa qui. E io adoro i cetrioli, e quindi ho preso questa, non so se ci sta bene, però io adoro così, la salsa così, quindi era vicina le tortillas. Magari ce ne volevo un'altra, senza altro piccante, io adoro il piccante, però ho preso questa. Perché prima ho preso questa, perché ho detto, bene, la metto sul pesce, la metto sulla carne, eccetera. Poi però ho visto le tortillas e questo qui, e allora, senza pensare, ho detto, beh, vabbè, va bene anche questa. Perché io quando vado a fare la spesa, diciamo, sì, scelgo in modo oculato, però non ci sto di tre ore, perché non ho tutto questo tempo di stare a scegliere, di lasciare una cosa, prendere un'altra. No, no, non lo faccio. Poi questo qui per i miei familiari, a me la carne rossa non è che proprio, eh, non mangio carne rossa da anni, però la carne bianca sì, cioè il pollo lo mangio. E anche gli affettati, vabbè. Poi, ancora affettati, questo prosciutto crudo qui, questo, poi, poi ho preso i, eh, ho preso questi qui, per i miei figli, io non ci vado molto dietro a questa roba qua. Mangio dolci, ma altri tipi, ma anche poi non è male, però lo lascio, li lascio a loro, li lascio a loro. Poi ho preso i soliti tortelli, due di zucca, due di zucca, tre, due, due, due scatole di tortelli di zucca e una scatola di tortelli con erbetta e ricotta. Una scatola di tortelli con erbetta e ricotta, sono buonissimi questi qui, costano poco e sono ottimi. Allora, poi ho preso questi qui per mia figlia, eh, che è come una bimba, le piacciono molto questi qui, questi qui per lei. Poi ho preso, questa qui per me, eh, ebbene, la Tennant, la Tennant, eh, sì, la Tennant Super, così con le tortillas, mh, questa qui la Tennant Super. Poi ho preso, vabbè, un'acqua minerale che serviva, mh, io bevo quella del rubinetto, però mia figlia, mh, a lei piace tanto l'acqua minerale frizzante, poi se non c'è, beve anche lei quella del rubinetto, però, insomma, una sola acqua minerale l'ho presa. E poi ho preso, mh, queste, mh, queste arachidi qui, 99 centesimi, un po' di roba così sfiziosa. Va bene, quindi non ho preso nient'altro, ho pagato, avete visto, 55 euro, veniva un po' di più, credo, no, credo, era così, cioè mi hanno fatto 10 euro di sconto, va bene. E niente, quindi io vi saluto, è un video brevissimo, speriamo di uscire fuori indenne, speriamo di uscire fuori indenne da un periodo molto, molto stressante. Ecco, vi sono uno che non può fare tante cose perché poi va fuori di testa, perché poi va fuori di testa, quindi vedrò un attimino come posso fare per arrivare a giugno in condizioni di sanità mentale, perché adesso sono ancora sana mentalmente, però sto reggendo molto e poi sono così, resisto, resisto poi, senza neanche rendermi conto, vum, vum, va bene. Vi saluto e vi ringrazio e a presto con altri video. Poi sono nervosa perché vorrei fare ASMR, perché vorrei fare esoterici, ma quelli richiedono una concentrazione, un impegno e una preparazione, anche prima, vabbè, ASMR no. ASMR richiede che imposto il microfono, quindi anche lì ci vuole, e invece video esoterici, non ho scelto, ho scelto alcuni materiali, però ci vuole una concentrazione, io sono connessa quando faccio quei video lì e ultimamente, siccome purtroppo devo lavorare molto materialmente sul piano terreno, ho perso un po' la connessione. Ho perso un po' la connessione col mondo astrale e mi manca tanto e ne ho bisogno, se no vado fuori di testa, va bene. Scusate lo sfogo, vi saluto, baci e abbraccio a tutti voi e speriamo che il mese di maggio passi presto, passi velocemente. Ciao. E da ora in avanti voglio chiudere i miei video con voi mostrandovi il mio antistress naturale. Amore, ma voglio farti vedere nella cuccia che vuole sempre mangiare. Puoi sempre mangiare, tiriamo via questo ombrello, non ti spaventare amore, è un ombrello. Tiriamolo via, tiriamolo via, ecco il mio antistress naturale, eccola, eccola qui, eccola qui. No, pensavo di accarezzarla nel, pensavo di accarezzarla nella sua, come dire, nella sua postazione lì. Però, allora, saluta amici amiche, amore, saluta amici amiche, eh? Per fare una carezzina, facciamo una carezzina, 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 carezzina. E leva le fusa, eh? Va bene. Ecco, aspetta amore che sistemiamo, va bene anche così. Allora, questa poltrona è tutta sbrecciata, insomma la devo buttare via così. Quindi lascio che lei ci faccia quello che vuole, ci si può fare le unghie, quello che vuole. Ecco, allora amore, saluta amici amiche. Abbiamo un po', l'ora della pappa, l'abbiamo un po' spostata, perché ora con questa neve, vedete, che sta nevicando ancora, e lei praticamente la mattina alle sette e mezza, alle otto, ha fame. E quindi lei faceva due pasti, a mezzogiorno e la sera alle sette, tra le sette e le otto. E invece adesso ha anticipato la mattina, perché lei ha freddo e ha fame. Quindi lei ha mangiato stamattina, quando non vuole che gli rompa le bols, lei usa la coda, come a dire lasciami stare. Va bene amore, ti lascio stare, perché anche agli animali non bisogna rompergli troppo le bolse, è vero amore? Va bene. Allora, quando poi vedo che lei si dirige verso le scatolette, allora, allora le do da mangiare. Ma aspettiamo, adesso sono le... Dunque, adesso sono le... E dunque, sono le quattro meno un quarto, scusate, è molto sfocato, eh. Sono le quattro meno un quarto, scusate, è molto sfocato. E aspettiamo, aspettiamo allora che arrivino almeno le sette. Va bene amore, ora ti lascio dormire qui. E niente, quindi, ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao a tutti, carissimi amici e amiche. Sto andando a Reggio Emilia a fare shopping e quindi vi porto con me. Andrò al centro commerciale Petali e poi andrò a McDonald's per assaggiare quelle patatine che... Quelle con sopra il formaggio e la pancetta, adesso non mi viene in mente come si chiamano, vabbè. E quindi a dopo, a dopo. E sono proprio arrivata a Reggio Emilia. Ecco questo ponte con quella bella statua, vedete? Ecco, con due statue, ecco. Questo è proprio il ponte di entrata alla città da parte di chi viene poi dalla montagna come me. E c'era ancora la neve, invece qua c'è un caldo bellissimo. Secondo me saranno 18-20 gradi, eh. Ed eccomi, arrivata ai Petali. Ai Petali, era da tanto tempo che non andavo in un centro commerciale. Comunque quelle patatine mi sa che si chiamano fries cheddar, una cosa così. Bene, allora entriamo. Entriamo insieme. Ripeto, era da tantissimo che non entravo in un centro commerciale, da un anno anche di più. Quindi scusatemi per le inquadrature non proprio professionali, perché, ripeto, io non sono pratica di centri commerciali, però. Saranno due anni, eh, che non entro in un centro commerciale. Quando ci vuole, ci vuole. Ok. Ed eccomi, arrivata al Mac. Allora, vi mostrerò, quando poi sono all'interno, anche alcune cosine che ho comprato da Stradivarius. Avrei voluto farvele vedere nel centro commerciale, ma non è stato possibile, perché, a parte c'era la musica ad alto volume, quindi avrei dovuto poi levarla. Però, insomma, vabbè, comunque ho avuto problemi nel filmare lì. Allora, ecco, che vi farò vedere poi all'interno. Finalmente posso mostrarvi, ora che sono qui al Mac, quello che ho preso da Stradivarius. Allora, ho preso questa gonna pantalone, vedete? Questa è la gonna pantalone, cioè una mini gonna, vedete? Adesso vanno con l'orlo, così vedete, leggermente è un po' più lungo, vedete? Sì, e dietro, e dietro sono sciotte praticamente, e le userò per andare a ballare con i miei topini luccicanti, al prezzo di 22 euro. Ok, poi ho preso, vedete, due magliettine, due magliettine perché mi servivano delle magliettine. Io da Stradivarius per le magliettine mi trovo benissimo, eh. Le ultime le ho prese a Modena, circa cinque anni fa, e le uso ancora, vedete? Questa qui, guardate com'è bella questa, vedete? Amour, questa qui, guardate com'è carina. Bella, vero? E poi ho preso anche un'altra magliettina bianca, questa la metterò sotto la mia giacca di velluto verde, oppure sotto il giubbino grise. Poi ho preso quest'altra, l'ho presa bianca, vedete? Guardate quanto è bella, com'è delicata questa qui, vedete? Pagate tutte e due 8,99, cioè 8,99 in una, vedete? Ho preso la L, ho preso la L, sì, c'era anche la XM, però poi era troppo, troppo grande. Vedete com'è carina questa qui? E poi ho preso, per finire, alla cassa, sapete com'è? Quando si arriva alla cassa, si vedono delle cose accattivanti. Questo bel profumino, Cherry Blossom, alla ciliegia. Io adoro i profumi alla ciliegia, siccome quelli di Victoria's Secret, ma è quasi finito. Ma guardate anche il packaging, guardate com'è bellino. L'unica cosa, no, del Toilette, quindi non dura tantissimo sulla pelle, però, ecco, però, ecco, no, però è ottimo, è ottimo, non dura molto, però, però è buono ed è anche fresco, quindi per l'estate è l'ideale. D'accordo, allora, ora, stiamo aspettando, abbiamo preso tante cosine, tante cosine qui, qui al Mac, che stiamo aspettando per l'appunto, e poi vi faccio vedere anche qua. Va bene, amici e amiche, allora io vi saluto, e, no, vi saluto per modo di dire, io quando sono fuori cassa sapete che sono sempre un po' così soluita. Niente, vi faccio vedere, quindi, a breve, quello che, quello che, che arriva adesso, che ci porteranno adesso, questo è il nostro numero, è qui. Quindi, amici e amiche, guardate quante cose che ho preso. Allora, questi Happy Meal da bimbi per avere il regalo di Yellow Kitty, questo qui. Poi, ecco, io adoro queste qua, vedete queste patate qui, col formaggio cheddar, ecco, il formaggio cheddar e la pancetta. Adoro, vale la pena di venire qui anche solo per queste. E poi, come gelato, a me piace questo qui al caramello, vedete, questo al caramello, poi acqua minerale, cuca zero e un, e un Mac, e un Mac Chicken, ecco qua. Era tanto che non venivo al Mac, eh, una volta, all'anno, una volta ogni due anni ci sta. E anche un yogurt, insomma, varie cose, a un prezzo, a un prezzo, insomma, abbordabile. Ciao.